Ciao e benvenuto a Il Milione, il podcast dedicato alla letteratura di viaggio di Claudia Vannucci. Ciao e bentornato a questo nuovo episodio del podcast Il Milione. Io sono Claudia e ancora una volta sono qui per parlare di libri di viaggi. Il tema di questa settimana è un grande classico, infatti sono i reportage di viaggi on the road. Ho scelto tre libri che hanno raccontato in tre modi molto diversi il viaggiare on the road, ma che tutti e tre hanno un punto in comune, che è l'ironia. Infatti tutti e tre gli autori che ho scelto hanno voluto demolire l'aura un po' leggendaria e romantica che ha sempre circondato i viaggi on the road da Kerouac in poi. Il primo libro che ti propongo è America perduta di Bill Bryson, che è stato pubblicato in Italia da Feltrinelli. Questo è un piccolo classico degli ultimi anni, almeno qui in Europa. Invece ho scoperto che agli americani non è piaciuto granché e posso anche immaginare il motivo. L'ironia di Bill Bryson è divertente finché non colpisce casa tua. Bill Bryson è nato a Des Moines e se n'è andato presto da lì, si è trasferito in Inghilterra e dopo dieci anni ha deciso di tornare negli Stati Uniti per intraprendere un viaggio on the road sulla scia di quelli che faceva da bambino con suo padre, attraverso la provincia americana più dimenticata. Quella ampia parte di America che non ha famosi monumenti e strade infinite, ma invece motel di bassa lega e strade provinciali scassate. America perduta è il racconto di questo road trip in giro per gli Stati Uniti, tracciato evitando accuratamente i luoghi famosi e interessanti e invece perdendosi in quelli più provinciali e profondamente americani. Bryson racconta tutto con aneddoti divertenti e un'ironia molto tagliente che non risparmia niente in nessuno e devo ammettere che forse alle lunghe stanca anche un po' perché sembra che Bryson debba per forza demolire tutto e tutti, ma alla fine questo è il suo marchio di fabbrica e ammetto che mi ha fatto ridere parecchio. Non sarà il libro del secolo che celebra l'esperienza degli Stati Uniti on the road, ma è un simpatico divertissement sul tema che comunque ti consiglio di leggere. Con il prossimo libro invece ti porto dall'altra parte del mondo, con un on the road tra i ghiacci della Siberia. Il libro è Febbre Bianca di Jacek Hugo Bader, spero di averlo pronunciato bene perché è un nome polacco e ovviamente non parlo il polacco. Il sottotitolo recita Un viaggio nel cuore del ghiaccio della Siberia e è stato pubblicato nel 2009 ed edito in Italia da Keller Editore. Questo è davvero un reportage particolare, io mi aspettavo qualcosa e invece ci ho trovato altro, però quest'altro era comunque interessante oltre che sorprendente. Hugo Bader è un giornalista polacco che a un certo punto decide di attraversare la Russia da ovest a est, in piano inverno, da solo, a bordo di una jeep sovietica adattata per resistere alle temperature siberiane. Ecco, mi aspettavo il racconto di questa attraversata avventurosa della Siberia, descrizioni di paesaggi, disavventure per il freddo estremo, insomma le solite cose che ci si aspetta di trovare in un reportage di viaggio. Hugo Bader invece racconta la propria esperienza e le curiose tecniche anticongelamento dei russi soltanto nel primo e nell'ultimo capitolo del libro. Tutto quello che sta nel mezzo sono invece interviste e storie delle persone più ai margini della società russa che l'autore ha incontrato lungo la strada. Sono alcolizzati, tossicodipendenti, punk e hippie, preti ortodossi, santoni new age. È un catalogo di umanità russa e di anti-eroi dalle vite apparentemente miserevoli che diventano esempi di resistenza e brillano grazie all'ironia della scrittura di Hugo Bader. Febbre Bianca è stato scritto nel 2009, quindi è abbastanza recente ed è ancora molto attuale. Te lo consiglio perché è un reportage di viaggio on the road, divertente e insolito e offre un punto di vista sulla Russia interessante e niente affatto scontato. Adesso invece torniamo negli Stati Uniti con l'ultimo libro di questo episodio dedicato ai viaggi on the road. Il libro è di John Waters e si intitola Car Seek. Il libro è del 2014 ed è in inglese, non è mai stato pubblicato in Italia. L'edizione americana però è facilmente reperibile su Amazon e se per te non è un problema leggere in inglese ti consiglio di fare questo sforzo per Car Seek perché ne vale la pena. John Waters è uno dei miei registi preferiti di sempre, è il papa del trash e all'autore di ignobili capolavori del cinema come Pink Flamingos e La signora ammazza tutti. È un vero personaggio, se non lo conosci ti consiglio di approfondire su Wikipedia perché io potrei stare qui a parlare di John Waters per ore. Insomma, John Waters nel 2014 decide di attraversare gli Stati Uniti partendo dalla sua amata Baltimore fino a San Francisco e lo fa in autostop incontrando lungo il percorso personaggi e situazioni che potrebbero capitare soltanto a lui. Il libro è diviso in tre parti, la prima è come sarebbe andato il viaggio nella migliore delle ipotesi, la seconda è come sarebbe andato il viaggio nella peggiore delle ipotesi e infine la terza parte è come è andato davvero il viaggio. È uno dei libri più divertenti che io abbia mai letto, è sempre fantastico vedere il mondo e in questo caso l'America attraverso gli occhi di John Waters e attraverso le sue raffinate quanto sarcastiche digressioni. E la terza parte, quella realistica, è persino più divertente di quelle immaginarie. Per questo episodio è tutto, spero che ti sia piaciuto e che tu abbia trovato qualche nuovo spunto di lettura. Ti ricordo che nella descrizione del podcast trovi il link con l'elenco dei libri citati in questa puntata e anche in quelle precedenti. Ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata. Nel frattempo iscriviti al podcast per non perdere i prossimi episodi e condividi questo episodio con gli amici appassionati di viaggio on the road. Grazie per aver ascoltato Il Milione, il podcast dedicato alla letteratura di viaggi di Claudia Vannucci.